Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Chiara Maccagni e mi sono lavorata da poco in ingegna mentale, all'Università degli Studi di Milano. Oggi sono qui per parlarvi di uno degli argomenti principali trattati all'interno della mia tesi, ossia l'alimentazione e la salute del cavo orale, in quanto argomenti estremamente correlati tra loro, ma spesso trascolati, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ci si sofferma raramente ad analizzare più nel profondo la situazione generale del nostro cavo orale, ma si preferisce fermarsi sull'esame obiettivo che riguarda il cavo orale senza analizzare più a fondo le cause di una cattiva situazione della nostra bocca, ossia anche il cibi che assumiamo quotidianamente. Oggi vedremo anche come poter effettuare questi esami attraverso sia dei pH test, quindi analizzando il pH della nostra saliva, sia dei test per capire i batteri presenti all'interno della nostra bocca, per cercare di raggiungere un equilibrio totale, una salute generale del nostro cavo orale, che non parta soltanto da una salute esterna, una salute un pochettino più superficiale, quindi nel nostro paradonte della nostra bocca e delle nostre mucose, ma anche da una salute più profonda, quindi dovuta appunto all'alimentazione e ai cibi che assumiamo ogni giorno. Grazie mille a tutti, buona visione! Grazie mille a tutti!